Ben ritrovati all'approfondimento di TG Piemonte, in questo nostro approfondimento parleremo dei principali pericoli della montagna, quali sono, come affrontarli e ne parliamo con Simone Bobbio del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, cominciamo subito. I principali pericoli della montagna. La montagna è bella, bellissima, affascinante, però bisogna saper andare in montagna, saper fare un'escursione, saper andare a sciare, valutare i rischi, valutare i pericoli, che cosa fare quando purtroppo le cose non vanno troppo bene. Quindi, quali sono i principali pericoli legati appunto alla montagna? Allora, in questa stagione specifica, in inverno, i pericoli sono legati ovviamente alla meteorologia e quindi alle temperature basse che si trovano in questa stagione, e al terreno e quindi alla neve e al ghiaccio che nascondono molte insidie. Partendo da quest'ultimo elemento, possiamo dire che questo è un inverno finora poco nevoso. Si tratta di un aspetto che induce spesso in problematiche perché paradossalmente gli inverni poco nevosi sono quelli più rischiosi da un punto di vista delle valanghe. Perché? Perché è un discorso non facilissimo da fare, ma sostanzialmente la poca neve che ha il suolo viene molto più rimaneggiata dagli elementi, dal vento, dalle temperature. E quindi può essere accumulata in grandi quantità in conche e avvallamenti e quindi essere più adatta, diciamo, alla formazione delle valanghe. Oltretutto, negli inverni poco nevosi, chi va a cercare la neve, gli sci alpinisti, gli sciatori, vanno a cercarla nei pochi punti dove ci sono, dove si trova e quindi dove c'è maggior pericolo valanghe. Ecco, la valanga si può prevedere? Anche questa è una domanda molto difficile. Diciamo che è un elemento assolutamente imprevedibile la valanga, nel senso che tutte le situazioni che si possono definire a rischio non sempre sono soggette poi a un effettivo distacco. Se facciamo anche un giro in questi giorni nelle montagne dove ha recentemente nevicato, vicino agli impianti da sci, troveremo tantissime tracce di persone che hanno fatto sci fuori pista, per esempio. E si sono esposti effettivamente a un rischio abbastanza elevato. Ma in tutte queste zone distacchi non ce ne sono stati. E quindi è davvero difficile prevederlo. Ci sono tutta una serie di aspetti da tener conto per cercare di evitare di sottoporsi a un rischio eccessivo. Prima di tutto la pianificazione dell'itinerario da casa il giorno prima di partire. Le condizioni della neve possono cambiare in maniera rapidissima. Basta una notte di vento che trasforma un pendio da sicuro a molto pericoloso. Quindi bisogna tenere presente il bollettino valanghe prima di partire che dà delle indicazioni molto precise su quello che può essere il pericolo in una determinata zona. E poi tenere presente le previsioni meteo. Oltre al fatto di tenere presente anche l'itinerario scelto. Perché ci sono itinerari più sicuri, perché meno esposti a pendi ripidi, meno esposti ad ambienti pericolosi. E ci sono invece itinerari ovviamente anche più pericolosi. Ecco, c'è un vademeicum che adesso lo mettiamo in grafica e magari lo raccontiamo ai nostri telespettatori. Allora, questa è la scheda che mostra il grado di pericolo valanghe. Si va dall'1, pericolo molto basso, al 5, pericolo elevatissimo. Consideriamo che il grado 5 indica anche pericolo per la viabilità, per centri abitati. Quindi con pericolo 5 possiamo veramente dire che bisogna stare a casa. Con pericolo 4 frequentare la neve con elevatissima attenzione e solo persone che hanno delle competenze specifiche, delle conoscenze specifiche sulla formazione delle valanghe, sulle condizioni della neve. Il pericolo 3 è quello che viene purtroppo un po' troppo sottovalutato, perché sembra un pericolo intermedio, ma in realtà questa è una scala esponenziale. Quindi già elevato come pericolo. La situazione di pericolo 3 è già una situazione... Marcato. Marcato, infatti l'aggettivo che accompagna il grado è appunto marcato, che dà più un'idea del livello di pericolo. Quindi decidiamo di fare un'escursione. Cosa facciamo? Dove troviamo tutte queste indicazioni? E quale attrezzatura e equipaggiamento dobbiamo portarci dietro? Allora, abbiamo visto questa scheda. Sul sito di Arpa Piemonte e di tutte le Arpa italiane viene emesso un bollettino nivologico di pericolo valanghe ogni due giorni. Quindi dà delle indicazioni molto precise ogni due giorni, appunto. Poi consultare il bollettino meteo. Anche in questo caso il bollettino di Arpa Piemonte è estremamente preciso e anche facile da capire, quindi dà delle indicazioni molto precise. scegliere attentamente l'itinerario che si intende percorrere, non preoccupandosi di chiedere a persone esperte, professionisti della montagna, gestori di rifugio, che sono sul territorio e hanno una contezza della situazione e di quello che è successo nei giorni precedenti. E poi ovviamente l'attrezzatura che si vuole, in base all'attività che si vuole praticare. Ecco, cosa non deve mancare? Allora, non deve mancare ovviamente pala, sonda e arva, che sono i tre strumenti che servono a trovare una persona sepolta sotto una valanga. Sono anche, tra l'altro, obbligatori per legge sul terreno innevato, ma non bisogna solo averli, bisogna saperli usare, perché la curva di sopravvivenza in una valanga ci mostra che le maggiori probabilità di sopravvivenza sono concentrate nei primi 15-18 minuti dal travolgimento. Questo significa che le uniche persone in grado di individuare una persona sotto una valanga entro queste tempistiche sono i suoi compagni di gita. Per questo si parla di autosoccorso, perché le persone che accompagnano qualcuno travolto dalla valanga sono le uniche in grado di trovarlo entro queste tempistiche. E tra l'altro non è neanche così facile, quindi questi tre strumenti bisogna saperli utilizzare. Anche nella migliore delle ipotesi, i soccorsi organizzati, l'elisoccorso, difficilmente arriverà entro queste tempistiche. E quindi l'autosoccorso è l'aspetto principale. E poi ovviamente l'abbigliamento, l'attrezzatura per affrontare le temperature rigide dell'estate. Si dice di vestirsi a cipolla, perché se ci si sposta, si muove in salita, viene caldo, si suda, in discesa più freddo, basta fermarsi per qualsiasi piccolo motivo che la temperatura corporea può scendere rapidamente. E quindi appunto prestare molta attenzione. Simone Bobbio, cosa dobbiamo fare se ci troviamo in difficoltà? Allora, la primissima cosa è chiamare soccorso. Se veniamo tra volte in una balanga, perché purtroppo anche una decina di giorni fa abbiamo riferito di due escursionisti che sono purtroppo deceduti. Sì, allora appunto la primissima cosa da fare è chiamare i soccorsi. Quindi tramite il numero unico delle emergenze 112, poi la chiamata, se appunto si tratta di un incidente in montagna, viene passata alla nostra centrale operativa, nella centrale operativa del 118, che gestirà la prima risposta per organizzare un'operazione di soccorso. Diciamo che circa nell'80% dei casi viene inviato l'elisoccorso, che raggiunge il luogo più rapidamente. Qua vive diaminazione. Ecco sì, quella è proprio la verricellata di un'unità cinofila dall'elicottero. E appunto nell'80% dei casi viene inviato l'elicottero, ma non sempre questo è possibile, perché dipende anche molto dalle condizioni meteo. E nel 20% dei casi partono le nostre squadre a terra che a piedi raggiungono il luogo dell'incidente. Seconda cosa appunto, cercare sempre ovviamente di mantenere la calma per ragionare in maniera lucida su quello che si può e si deve fare. Non è assolutamente semplice. In caso di valanga appunto, tirare fuori l'attrezzatura e iniziare la ricerca del travolto. Certo. Siamo in chiusura. Come è stato il 2023 a livello di numeri? Direi che è stato un anno più o meno nella media per quanto riguarda il post-Covid. Abbiamo proprio osservato che dalla pandemia in poi c'è stato un netto aumento di interventi di soccorso, di persone recuperate, perché per certi aspetti si tratta anche un po' di un dato statistico, cioè più persone frequentano la montagna e più ci sono probabilità di incidenti e di infortuni. Quindi più o meno quella media lì sui 1.400 persone soccorse di cui una settantina decedute. Poi voi siete a disposizione per qualsiasi informazione. Noi siamo a disposizione per qualsiasi informazione. Sì, 24 ore su 24. 24 ore su 24, sempre pronti a intervenire o aiutare chiunque ne abbia bisogno. Bene, grazie davvero di cuore. Il tempo è volato. Ringraziamo Simone Bobbio, Soccorso Alpino Speleologico Piemontese. Grazie per averci fornito tutte queste preziose indicazioni e suggerimenti e grazie a tutti i nostri telespettatori. Grazie a tutti.